Il Consiglio Comunale di Canicattì, riunito ieri sera su convocazione del Presidente Alberto Tedesco, ha esitato quasi tutti i punti inseriti all'ordine del giorno dei lavori, tranne il debito o fuori bilancio, per una controversia legale tra un cittadino e il Comune. Il punto è stato rinviato a causa dell'assenza in aula, preventivamente annunciata e giustificata della funzionaria che doveva relazionare sulla cronistoria del debito. E' stato ritirato invece il punto relativo alla mozione presentata dal Consigliere Comunale Fabio Falcone, capogruppo del Movimento 5 Stelle sul Cargiver, perché lo stesso Consigliere ha spiegato che ci sono in corso modifiche alla Camera dei Deputati sulla materia. E' stata invece approvata all'unanimità la mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico sull'istituzione di un infopoint resto al Sud, primo firmatario, il Consigliere Angelo Cuva, espressione dei giovani democratici di Canicattì e sottoscritto da tutti gli altri 16 consiglieri del Partito Democratico. Ha approvato in fine il regolamento per l'assegnazione delle aree e del piano di insediamenti produttivi di Contrada Bastianella, proposto dal dirigente Angelo Licata, che darà il via libera al nuovo bando per la concessione delle aree agli artigiani. Prima dell'inizio dei lavori consigliari si è aperta una discussione politica sulla situazione di crisi che si registra in giunta di Ventura, dopo il dimissionamento del vice sindaco Tommaso Vergopia. Un appassionato intervento di Gian Gaspare Di Fazio ha messo all'angolo il sindaco di Ventura sulle responsabilità nella scelta di mettere fuori dall'aggiunta l'assessore Vergopia. Il sindaco ha replicato che era venuto meno il rapporto di fiducia con il suo vice e che le motivazioni sono inserite nella determina che ha dimissionato Vergopia. Di Fazio ha confermato la sua appartenenza al gruppo consigliare di Uniti per Canicattì assieme a Silvia Licalzi e Ignazio Giardina e ha detto di essere ancora espressione della maggioranza che sostiene il sindaco Ettore Di Ventura.